Visto che io sono molto attenta a mangiare sano eccetera ho mele e uva per tutto il gruppo Ragazzi un po' di vitamina mi fa bene Allora... Cosa rimette? Ecco solo che qui sono... Uuuuuh Vuoi dell'uva? Vuoi della mele? Della mele Quell'uva non si mangia da sola Come anche in Europa Non voglio sapere che additivi ci sono Ma non è vero No non è vero è verissimo Propresa bio raga Ehi 3 dollari Cazzo mica ne avevo mille Ma perché ho detto io la posso prendere quella di aria Grazie Prego Mela uva qualcosa? No no io ho uva